Andrea Soli ha deciso di dimettersi questo lo ha fatto per la Pernana, lo ha fatto perché ha detto che l'allenatore Lucarelli aveva fatto un gran lavoro, la squadra era stata costruita per lui e sicuramente se l'è costruita lui insieme a Leone, sicuramente Andrea Soli ha fatto un lavoro importante, un lavoro secondo me che poteva anche andare avanti, ma Andrea Soli è un uomo di calcio ed è un uomo che non dice mai io sono un uomo, ma è un uomo vero e Andrea Soli ha fatto un calcolo, purtroppo io ho giocato volente o non volente 12 partite, mi sembra che se ne sono 6 che sono andate male, mi sembra che ce ne sono forse 3-2 vinte, 3 vittorie e quindi ci sono 3 pareggi. Ha detto che non è possibile avere un punto a partita, è una media che non ha senso da Soli, quindi come io ho in mezzo a dispiacere devo dire, perché ho insistito fino ad ora parlando con lui, con lui mi ha insegnato delle situazioni di calcio e mi ha detto che nel calcio servono scosse, come lui più volte ha detto anche a tutti voi e quindi lui ha detto che le scosse devono essere date. La stessa puramente, personalizziamoci un attimo, il tifoso che chiede Lucarelli, lei che magari ci pensa, il vantaggio è che Lucarelli conosce il gruppo, armi di banchino. Per la parte delle battute signori è evidente che Lucarelli è la persona più vicina a questa banchina, perché Lucarelli conosce il gruppo, ora con serie d'età, l'analisi che ha fatto Andrea Zoli è un fattore di tempo, l'analisi che ha fatto Andrea Zoli è un'analisi matura, forse un'analisi da direttore sportivo e da presidente. Andrea Zoli ha detto che l'unico che oggi, secondo me, si può dare una mano a gestire le cose è Lucarelli, ora basta, l'abbiamo detto, la mia è una battuta, non è mai evidente che chiamerò Lucarelli, cioè non è che posso chiamare il signore che sta qui, il signore che è antipatico, no, no. Presidente, vista la situazione che ci hai venuto a creare, ha un rimpianto di avere scegliato Lucarelli? Scuso? Ha un rimpianto di avere scegliato Lucarelli? Non ho capito. Vista la situazione che ci hai venuto a creare? Guardi, Andrea Zoli lavorava 8 ore al giorno qua dentro, prima di venire Lucarelli deve firmare la seconda lettera, se non viene. Quindi la modifica? Ti piace questa cosa? La modifica è la modifica? Perché è una cosa facile, deve lavorare, Lucarelli è andato via perché non c'era qualcosa che a me non piaceva, quindi se Lucarelli rivede le sue posizioni viene, se no, si diverte e non viene. Però per venire deve vedere le sue posizioni, pensi che è condizione fantastica, io lo pago tutti i mesi, ora io spero che telefonando lui mi dica l'annaffanculo, per da buoni col mese, e quindi non vuole venire. Se viene qua deve imparare quello che c'è da fare, la squadra aveva delle lacune, le lacune erano forti, le hanno viste tutte, lui aveva imparato la lezione, le lezioni si sono fatte. Si imparano nella vita, quando non si vince si deve imparare. Lui è stato isolato perché non ha fatto ciò che doveva fare il bravo allenatore, quello che ha vinto la serie C. Se lui vuole tornare qui spero che torni con l'anima di quello che ha vinto la serie C, di quello sicuro di sé e che sa quello che fa. Gente violenta, gente che fa lo scemo, gente che da primo giorno è arrivato qua, ma ha detto che loro si occupano di acciaio. Allora sapessero che io sono fatto d'acciaio, primo. Secondo punto, a 62 anni, capisci? Secondo punto, 114 kg ben distribuiti. Terzo punto, io ho speso qua più soldi di qualsiasi presidente che voi avete visto al mondo. Quarto punto, io vi ho fatto cambiare la pelle di questa città come nessun'altra aveva mai fatto, perché comunque aprite i giardini grazie ai soldi miei. Diceva, tu parli sempre dei soldi tuoi. Allora prestateveni voi, così aprirò i giardini e i soldi vostri. Dopodiché, qui sono arrivati i 95 posti lento, grazie alle mie battaglie. Qui chiacchierate tanto, ma poi avete fatto ancora un cazzo. Detto questo, quando stanno le cose? Oggi mi avete fatto girare le palle? Io sono fatto così, l'avevo sempre detto.